Una ventina di ragazzi fanesi sono stati protagonisti lo scorso 24 giugno e per cinque settimane consecutive del progetto estivo di cittadinanza attiva giovanile Cisto a fare fatica, facciamo il bene comune. Iniziativa arrivata alla quarta edizione che vede ragazzi e ragazze dai 14 ai 21 anni mettersi in gioco per rendere il proprio territorio un posto migliore. I giovani divisi in squadre hanno svolto piccoli lavori di cura del verde, pulizia di strade e sentieri, tinteggiatura di panchine staccionate e così via. Ognuno di loro ha dato il proprio contributo rendendo più bella la città di Fano e allo stesso tempo facendo nuove amicizie. 60 invece i ragazzi totali che hanno preso parte in tutto l'ambito territoriale e sociale numero 6. Si è conclusa dopo diverse settimane di lavoro il progetto Ci sto a fare fatica. Un progetto finanziato dalla Regione Marche è coordinato da CSV Marche. Il progetto consiste nel mettere a disposizione da parte dei giovani proprio la loro fatica, da qui il nome ci sto a fare fatica, mettendo a disposizione la loro fatica per andare a riqualificare e a risistemare quelli che sono alcune aree della città coordinati da dei tutor di età dai 24 ai 34 anni. Questi tutor li settimanalmente valutano delle aree da andare a riqualificare. Alla fine delle varie settimane di progetto i ragazzi vengono se possiamo dire compensati con un buono sconto da 50 euro. Per quanto riguarda la città di Fano i progetti hanno incluso diverse zone. Alla Rocca Malatestiana e i giardini Biancheria i ragazzi hanno sistemato l'intera area e allestito la platea per gli eventi estivi. A Sant'Orso invece il trasloco dell'archivio scolastico e ritinteggiatura delle aule didattiche della scuola Torricelli, la riqualificazione della rotatoria nella zona del centro commerciale e la verniciatura dei cancelli della scuola Filippo Montesi. Al parco bambini del mondo di Bellocchi invece i giovani hanno applicato un trattamento protettivo e decorato le panchine ed infine al centro ortofrutticolo di Rosciano, come mostrano queste fotografie, sono state tinteggiate con un nuovo colore i cancelli di ingresso che delimitano l'area del Codma. Fano deve essere orgogliosa dei propri giovani e dei giovani che hanno partecipato al progetto Ci sto a fare fatica, perché questi ragazzi dalle 8 e 30 della mattina fino alle 12 e 30, nonostante l'estate, non si sono comunque voluti ad operare per quello che è il bene della città e per la riqualificazione di queste aree anche a loro comunque vicine e che poi vivono quotidianamente. Io personalmente insieme ai dirigenti dei servizi sociali siamo andati a vedere quello che era il lavoro che facevano questi ragazzi e devo dire che abbiamo trovato una realtà veramente veramente molto bella e molto genuina. Inoltre il Comune di Fano dopo diversi anni che aderisce a questo progetto, sperando nei prossimi anni che con la Regione Marche ci sia la possibilità di continuare a portarla avanti, ci impegniamo nel cercare sempre più giovani perché veramente c'è tanto da fare e i giovani hanno bisogno di essere aiutati, hanno bisogno di essere, se così si può dire, spronati nel rendersi attivi in quello che è il lavoro della città e non solo stare dalla mattina alla sera magari lo dico come facciamo tutti noi, io in primis davanti ai telefoni, davanti a televisione, perdere diciamo il contatto della realtà. Questo è un buon progetto, è una buona realtà che aiuta, proprio scusatemi il gioco di parole, a ritornare con i piedi per terra e a toccare con mano quella che era la realtà delle cose e le realtà del territorio.